Qual è l'iniziativa di PoliHub? L'apertura era rivolta alla volontà, alla voglia di fare networking, tutti gli interventi che ho visto fino adesso hanno avuto un'elevata interattività e quindi c'è realmente uno scambio di contenuti, uno scambio di valore. Sono veramente molto contento di questa iniziativa e continueremo a supportarla anche negli anni futuri. Fai Rock è il motore di tutto questo. Roberto e Francesca sono dei miei amici, sono con loro e mi impegno personalmente per dare energia a questa iniziativa. È un'iniziativa di elevato valore, ma è un'iniziativa che ha un impatto sociale e si pone degli obiettivi utili per tutti, in grado di migliorare la società. E quindi è per Fai de Stroke che ci impegniamo, diamo una mano ad attivare connessioni, connettiamo persone che lavorano con l'incubatore d'impresa, si occupano di scienze della vita e si occupano di tecnologia. Fai de Stroke ha anche la capacità di unire un sapere che è più tipico delle scienze dell'ingegneria del Politecnico di Milano con le scienze della vita. E noi come Hub siamo a disposizione per attivare ulteriori connessioni.